Eccoci a Massino Visconti. Questo è un campanile un po' storto. Questo è uno dei discorsi di vista, ma chiaramente non mi fermo qui. Non mi fermo, non mi fermo. 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 Comunque una bella passeggiata nel bosco, nel camper, parcheggiato proprio lì. Comunque parcheggio libero, dice la chiesa, come avete visto prima, e il ristorante è appena sotto. Ragazzi, è stupendo. Che magnate un po' stupendo. ragazzi, questo è la vista. Ragazzi, questo è la vista. Questa è quella, visto? Eccolo qua. Questa è la vista. 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 di un'oretta, poi sono 30 secondi di video, dove proprio vediamo sorgere il sole, bellissimo. Vediamo se non riesco a prendere il sole, qua, qua, il sole. Grazie. Grazie.